Il campionato sembra trovare la quadra anche se si finirà a giugno, sempre presente e sempre sul pezzo. Qual è il segreto? Il segreto secondo me è lavorare giorno dopo giorno in allenamento, insieme, stare sempre con la testa concentrati sul pezzo appunto e così potremmo toglierci molte soddisfazioni fino a giugno. Imperativo dare continuità dei risultati. Ti ha sorpreso lo schieramento da esterno destro di difesa? No, assolutamente. Io mi adatto alle disposizioni che mi dà il mister e sono sempre disponibile in qualsiasi ruolo. Mi adatto a tutto, lavorando in ogni allenamento. Che campionato di aspetti ha questa squadra? Questa squadra secondo me può arrivare molto in alto perché ci sono molti elementi importanti, fondamentali che possono aiutare anche noi giovani a stare sempre concentrati e lavorare bene. Che derby pensi possa essere quello di domenica? Il derby è sempre un derby molto sentito per la piazza e noi come sempre andremo lì a dare il massimo e a portare risultati importanti per la piazza di Nardò. Ringraziamo Crocifisso Cancelli e in bocca al lupo. Crevi il lupo, grazie.